L'Italia produce 500 milioni di litri dati in pecora, tutta Italia, ma Sardegna è il 60%. Nel 1980, la prima comunità per aiutare i tossicodipendenti, quando ancora non c'era nemmeno l'istituzione pubblica, non c'era il CERD per i pesi. La prima comunità per aiutare i tossicodipendenti, quando ancora non c'era il CERD per i pesi. E' un viaggio di ascolto, noi prendiamo appunti, non è la solita iniziativa di campagna elettorale che pure faremo, faremo come PD, faremo come coalizione.